Restiamo uniti, anche questo momento così difficile finirà. Con questo messaggio il presidente provinciale di ConfCommercio, Ademaro Cordoni, ha concluso la presentazione ai soci del bilancio consultivo 2011 della Confederazione. Un bilancio che ha messo in luce quanto fatto e quanto c'è da fare per continuare a stare vicino agli associati in un momento economico non semplice. L'andamento negativo del 2011 ha infatti visto il ricorso alla cassa integrazione in deroga di molte aziende del settore. In numeri sono 220 le richieste avanzate per un totale di 101 aziende coinvolte e 65.740 ore di cassa integrazione in deroga. Già nei primi quattro mesi del 2012 inoltre sono già 76 le aziende che si sono rivolte a ConfCommercio per richieste di cassa integrazione. Come aspetto positivo da segnalare la stipula rinnovo di contratti integrativi che erano in essere e la detassazione al 10% dei premi e sugli elementi di produttività e redditività aziendale conseguiti dalle imprese e riconosciute dipendenti e quello per l'ampliamento del periodo entro il quale è possibile godere dei permessi per i dipendenti sia del commercio che del turismo. Risultati questi raggiunti anche grazie al sostegno del sindacato la cui attività si è potenziata. Per quanto riguarda il capitolo formazione che ha coinvolto 1132 persone, Cordoni ha sottolineato l'attività svolta dall'agenzia formativa Soggese Tercatta e degli enti bilaterali Ebitera e BTT. Segnalato poi il lavoro svolto dal centro Fidi per l'accesso al credito che ha portato a buon fine 305 operazioni richieste da altrettante diverse aziende per un movimento totale di oltre 16 milioni di euro. Infine per quanto riguarda il futuro ConfCommercio si pone come sfida principe quella del settore sicurezza.